Ciao, ben ritrovati. La primavera è arrivata, ma per quanto riguarda la comunicazione del Giro d'Italia femminile siamo ancora in pieno inverno. Mentre registriamo questa chiacchierata breve, è l'ultima settimana di marzo, non ci sono ancora notizie sulla presentazione della prossima Corsa Rosa femminile, non c'è nulla. Mi sono fatto due note per non dire castronerie, ma per esempio canale YouTube ufficiale, 10 luglio, il materiale più fresco sul canale YouTube ufficiale del Giro d'Italia è del 10 luglio del 22. Facebook, più lì hanno lavorato perché su YouTube sono fermi al 10 luglio. Su Facebook si sono dati da fare anche dopo, infatti il materiale, l'ultimo mi segna 13 luglio. Hanno lavorato ben tre giorni in più. L'intestazione del sito. Andate sul sito ufficiale e vedete il Giro 22 del 2022. Insomma, siamo veramente al nulla. L'organizzazione del buon ruini, probabilmente perché sapendo che per loro è il terzo e ultimo giro che tengono in mano, che organizzano, che propongono, forse hanno perso motivazione, non si sa, però non è possibile che siano riusciti da questo punto di vista a fare peggio della vecchia organizzazione che si occupava del Giro, che si occupava... È veramente deprimente perché già è arrivato il Giro di Francia, il Tour donne, e ti ha tirato una bella legnata. E tu fai di tutto per davvero restare l'inchioda. Insomma, benvenuta a RCS. Benvenuta a RCS a questo punto. Con la speranza che si esca da questo limbo della non comunicazione e basta. La delusione è tanta perché diversi atleti negli anni scorsi e negli ultimi anni atleti importanti hanno più volte messo i puntini sulle I, sul fatto che non potevano fare una programmazione perché non c'era mai la presentazione del Giro. Arrivava quando la stagione era iniziata, come sarà quest'anno. E ormai stufo sono stufo anch'io di dire non ci siamo. Male ragazzi perché fino a tre anni fa anzi, fino a due anni fa eri la number one del calendario arriva il Tour e per l'amor di Dio si è capito subito che l'aria è cambiata. ma qua veramente non ho notizie zero il nulla il nulla probabilmente RCS partirà da un foglio bianco speriamo perché qui non puoi commentare quello che non c'è perché non trovi nulla YouTube 10 luglio 2022 Facebook 13 luglio 2022 poi il nulla il nulla buon giro a tutte vediamo quando arriva magari nell'uovo di Pasqua nel momento in cui vi sto parlando mancano un paio di settimane chissà che nell'uovo di Pasqua troviamo il percorso e benvenuta a RCS ciao ciao